Salve a tutti ragazzi bentornati su Qua io tu sul server 2 insieme a Ciccio Gamer che sta registrando dall'altra parte Salve ragazzi bentornati bentornati questa volta sempre più cattivi eh Sì ragazzi sempre più cattivi La scorsa partita ci siamo resi conto che Ciccio Gamer con un Gamepad è più pericoloso di una fidanzata con le chiavi della tua auto Esatto esatto comunque vi ricordiamo link in descrizione veniteci a trovare perché sennò vi vengo a blastare con il pad in mano E non vi dico altro va bene? Ok E questa volta qualcuno ha indovinato la scorsa volta nei commenti Sì bravi 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 Ma stavolta ci hanno qualche aiuto in più eh Ma si sono allenati i maledetti mi hanno detto che si sono allenati eh Così mi sono detto Assolutamente che ti pensi che ti facciamo vincere sempre Eh no eh no comunque ho visto che è piaciuta la coppia siamo molto molto contenti di questo E questa mappa è bellissima e non trovo nessuno Ciao Sinergo ti sparano col cecchino Dicevo Nella sua prima opera Sì Cacchio Tra l'altro il Zugo che è bellin bellino ma ogni tanto quando esci e poi rientri comincia ad avere un frame rate vergognoso Sì Mi sta rompendo i maroni non poco Allora ragazzi io vi dico una cosa stanno tutti dentro le case e non mi sembra strana come cosa perché di solito non lo fanno mai Allora a sto giro però io ho cambiato i comandi quindi sono un attimino più comodo Eh vedi che allora sei veramente hai fatto veramente le grandi partite allora eh maledetto Beh ragazzi ragazzi adesso daremo il nostro meglio anche se dire stronzate non è proprio il massimo per concentrarsi ma Quello è vero io lo dico sempre guardate che non è facile fare i gameplay cazzoni Perché in realtà ti concentri più a dire cacchiate Oh ma io faccio Però guarda la classifica non è male a questo giro Io faccio i buchi eh Eh oh faccio i ciccio io non lo so eh Guarda Ciccio che fa i buchi ma non è tanto il fatto che faccia i buchi quanto che li faccia con l'attrezzo del diavolo Quella è la cosa No ma sono morto E il mio Taitan è tutto solo Taitan vieni qui Dov'è il mio Taitan? Noi anche se siamo in squadra con Ciccio Ovviamente tipiamo noi stessi Sì sì siamo contro perché Taitanfall è un gioco super individualista Sì 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 assolutamente Il mio Taitan Pro me lo stanno già tutto macchiando Ma che scatole Eh me l'hanno macchiato Ciccio dove sei? Eh sto sto in mezzo alla gente cattiva Ma perché cattiva veramente perché mi sta Chi è che mi spara? Ah ma ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Oh nooo Io sono sul mio Taitan Io invece devo rientrare in battaglia che ho fatto tipo 600.000 miglia di volo No 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 sta merda che si fa esplodere guarda Quanto odio quelli che si fanno autoesplodere E io ce l'ho anch'io Noto un certo risentimento per il Medio Oriente Nelle tue parole Che cazzo è cazzone tu eh Comunque io inviterei i nostri amici a guardare il punteggio Perché secondo me questa volta è difficile decidere il vincitore Dici? Eh guarda che siamo molto molto alla pari tutti e tre Aspetta aspetta che mo mi porto subito in avanti eh Aspetta Mo che me hai detto? Bravo Merda 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 No no Mi ha messo sotto Mi ha messo sotto Vai 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 No ciccio ho detto fatto proprio Te l'ho detto Cioè non è che guarda che io so uno di parola eh Cioè se dico una cosa è quella eh Ciccio gamer citta L'abbiamo scoperto Vogliamo dirlo a tutto il mondo Lui citta Si citta perché con il gamepad questi sono punteggi impossibili Però ragazzi c'ho bisogno di una mano perché ci sono troppi titan Eh ho notato l'ho preso anch'io guarda che avvenimento Indicativamente dove ti trovi? Eh sto lateralmente Ragazzi il mio titan stiamo per fare un botto incredibile ragazzi No c'ho l'artigliere pesante davanti non campo Oh merda merda Non campo non campo non campo Invece sono incapato perché sta scappo Ah esplosione via 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 Sidergo Che culo mamma Tonda c'era un secondo e morivo proprio male Dai no non ci voglio credere Qui c'è qualcosa che non mi quadra Devo essere sincero Non va bene Vieni Titan Vieni amico mio Titan puzzi puzzi Guarda se muore quel figlio Amico mio Lascia fare Qui c'è da vederla sul canale Madonna che ho fatto Mamma mia Mamma mia Via 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 Così nuovo il Titan No ma perché questi si fanno esplodere tutti Porca Ma perché Perché sono delle persone orribili Guarda io non lo so Ok i Titan adesso abbiamo due Titan nuovi La cosa già va un po' meglio La cosa già va un po' meglio Porca troia Madonna Vai qua perfetto Guarda Redez è trasparente come i bicchieri di cristallo Io Sì Vieni 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 Dai 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 che ti butto giù Dai che ti butto giù Dai che ti butto giù Non lo butto giù mi dispiace E invece ci l'abbiamo buttato giù Salta 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 È in aria signori Se vola Madonna ragazzi Ma ciccio è inarrivabile Eppure sto facendo una gran bella partita Eh ma te l'ho detto Amico mio Te l'ho detto Io sto facendo una partita di merda Ero partito dalla grande E poi niente mi sono perso per strada Ho visto un po' di scogliattoli Eh ma perché sono teneroni capito Quindi Eh esatto Sono tenenissimi E quindi andiamo qua Allora Questo è morto Questo è morto Allora la nostra soddisfazione è quella di avere un numero di ore Ma sia per noi che per ciccio Noi abbiamo un numero di ore ridicolo su Titanfall Cioè non è che È vero è vero Non siamo nerdoni Ma basta guardare gli altri che stanno in squadra con noi Che stanno facendo punteggi veramente ignobili Andiamo via andiamo via C'è uno che mi vuole cavalcare Ci ho detta così Eh ma in realtà è così Ok questo è morto Oh no c'è un Titan dietro Vieni qua Oh vieni bravo L'ho visto volare in aria Non è vero mai Ma sa che mi sono sbagliato Titan Vieni qua che c'è bisogno di te Porca miseria Meno male che quello è un bot Ce lo facciamo tranquillo Dicevano Tanto tempo fa Dai dai Decupera 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 Sono in minoranza Mi dicono Sì 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 Lancio una bomba incredibile Salta No Ok Allora come lo sto cecchinando Quel povero Titan Disgraziato Disgraziato Oddio questo mi ammazza No allora loro Loro hanno tantissimi Titan Tuttana Ok un missile ce l'ho tirato Questo però mi sta un attimino raspando troppo Occhio occhio sta scoppiando qualcosa Sì Sono io Mi sto scoppiando Ma Questo tizio adesso prenderà il sapore della vendetta dritto giù nella gola Oh vedi Ottimo ottimo Calato Eh no si nervo non sono riuscito ad aiutarti Mi dispiace 207 ci stanno battendo ragazzi Forza Eh io mi sto impegnando a bestia Eh lo so Sì sì ciccio Non ha Come fanno a vincere tra parentesi Ma non lo so Eh si vede che è la squadra ragazzi Purtroppo non siamo solo noi tre Eh beh infatti gli altri fanno un po' cagare qua sotto Eh sì ci sono dei problemi strutturali nella nostra squadra Sì Anche perché voi uccidete e non me ne lasciate manco uno Io faccio supporto da dietro No sconfitta Guardate i fronteggi ragazzi C'è 87 Poi 28 23 14 Giochiamo in tre cazzo Porca miseria Però è stata una gran partita anche questa Sì sì no vabbè Molto molto valida Però Io voglio sempre ciccio quando ci chiamo a Titanfall Esatto ormai sono il vostro collega di Titanfall Sì sì io direi che ci possiamo anche fare un Esatto Una squadrone Facciamo una squadra la chiamiamo con un nome originalissimo tipo i Dark Killers O i Sterminatori roba del genere Cose che non usa mai nessuno dai Sì sì è una roba nuova Ci affremmo uscire vivi da Dai Sinergo Non lo so io ci sto provando e tra l'altro sto uccidendo tutta la squadra nemica non mi interessa Devono muovere tutti Le piedi con la motobompa miglior uomo in squadra Ciccio attenzione attenzione Sinergo gli sta alle spalle però Dai che Aspetta che A questo gli do una mazzata Dai 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 no Nave Nave Fa il culo Cazzo No Dai Arca roia Ciccio dai No e io faccio io rimango qua a fare kill Per 5 punti di merda hanno vinto Per 5 punti di merda Bellissima partita direi Direi che è stata splendida Quindi signori Se il video vi è piaciuto Grazie a voi due su server È sempre fantastico Giocare con voi Direi che ci vediamo alla prossima Esatto Ciao Ciao ciao